Fianco! Soldati dell'ordine, spie, traditori e terroristi si sono rifugiati nel castello di Takodana e i membri della resistenza vogliono aiutarli a fuggire. Ma quella feccia non scapperà. È nostro diritto farli tutti prigionieri occupando l'area posizione dopo posizione, a partire dal memoriale esterno. Andate! Correta armata! Per me una mano! Per la causa! Attacchiamo il memoriale! Per me una persona per il salto! Il memoriale è quasi nostro. Procediamo! Settore sicuro! Distruggete i superstiti della resistenza, poi avanzate! Ritorna subito alla tua squadra! Dobbiamo distruggere quelle sorrette per arrivare al castello! Attaccate senza remore! Non c'è più spazio per la prudenza! Per me una bella... Posizionamento cariche sulla torretta est. La torretta est sarà distrutta a breve. Vettore sicuro, eliminate eventuali superstiti. Non voglio altri ostacoli tra noi e il cappello. La resistenza e gli infami che cerca di proteggere sono nascosti nel castello. Lo conquisteremo con un assalto prontale. Nessuno ricorderà la vostra sconfitta. Troppo difficile. Ora basta! Troppo difficile! Troppo difficile! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.